La fila parte dall'adietro, sotto la pioggia, ecco qua, e questo è il ringraziamento dei sacrifici di tutti noi, del personale sanitario, per farci il vaccino. Eccolo qua, sotto la pioggia, al freddo, come delle mucche che vanno al macello. Eccolo qua, eccolo qua, così è organizzata questa cosa. Complimenti, vi voglio fare vedere, arrivo solo fino in lì, guardate, cioè nemmeno a piedi si può fare la fila, nessuno si lamenta, tutti contenti di fare questa fila per farci il vaccino. Ecco qua. Al fondo c'è la televisione che giustamente è una vergogna. La gente sarà qua dalle 7, ecco qua, per arrivare lì. Guardate qua.